Eccoci ancora in diretta a proposito di misericordia concreta, di carità che si fa carne, potremmo dire. Questa mattina vogliamo presentarvi un bel progetto della Caritas Italiana, Mi sta a cuore. E abbiamo con noi la referente di questo progetto, Benedetta Ferrone, che è in collegamento con noi tramite Skype. Buongiorno Benedetta, bentrovata. Buongiorno, buongiorno a voi. Grazie per essere con noi. Allora, una piccola indicazione per la regia, se mi date leggermente un po' più di volume in studio, perché altrimenti non riesco a sentire Benedetta. Parliamo allora di questo progetto alla vigilia della giornata mondiale dei poveri. Il tema è Gesù Cristo si è fatto povero per voi. Vorrei contestualizzarlo attraverso un breve passaggio del messaggio, perché Papa Francesco scrive che è necessario condividere il poco che abbiamo con quanti non hanno nulla, perché nessuno soffra. Più cresce il senso della comunità e della comunione come stile di vita e maggiormente si sviluppa la solidarietà. Ecco, in questa direzione potremmo dire, Benedetta, che va il progetto Mi sta a cuore. Vuoi spiegarci in cosa consiste? Sì, allora il progetto Mi sta a cuore nella sua prima edizione Caritas Italiana l'ha voluto fortemente, perché va un po' in linea con la fantasia della carità, quindi dare spazio ai giovani. Ed è un progetto in cui alcuni giovani italiani, in questo momento sono cinque, perché il progetto è da poco più di un mese che è avviato, cinque giovani da tutta Italia che si sono presi un anno di tempo da dedicare agli altri. Quindi sono arrivati a Roma, vivono insieme e hanno scelto di dedicare un anno dalla loro vita a se stessi, e quindi per comprendere sempre di più qual è il loro posto nel mondo, ma anche lo fanno attraverso la donazione agli altri, quindi agli ultimi, ai poveri. Mi sta a cuore, Benedetta, mi ricorda molto quel famoso motto di Don Milani, Ai Care, che è molto significativo da questo punto di vista. Vorrei chiederti però perché è importante che i protagonisti, ma anche i destinatari, se vogliamo, di questo progetto siano proprio i giovani? Si dice spesso che i giovani sono il futuro, invece i giovani sono il presente. E anche Papa Francesco su questo lo ribadisce molto, e sono molto contenta che anche nel processo sinodale i giovani sono stati presi in considerazione, viene chiesta la loro voce. Quindi per dare futuro ai giovani bisogna rendere i protagonisti dell'oggi, e questo è molto molto importante. Questo progetto, leggo dalla scheda di presentazione, voi l'avete definito una sorta di pit stop, un'occasione per fermarsi, per mettere a servizio testa, cuore e mani, sperimentando che c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Ecco, possono sembrare anche dei concetti un po' lontani, se vogliamo, dal mondo giovanile, però sappiamo che ci sono tanti ragazzi, tanti giovani, che in controtendenza rispetto magari ai loro coetanei, si mettono a servizio della povertà. Io vorrei chiederti anche da giovane a una giovane che ha le mani in pasta, che si è sporcata le mani, potremmo dire così, da chi deve nascere questa iniziativa di coinvolgimento nei confronti dei giovani? O meglio, chi deve far, passami il termine, innamorare i giovani del servizio agli altri? Ecco, sì, questa è una bellissima domanda e ti ringrazio. È vero, proprio così, i giovani si pensa che non hanno ideali grandi, che non vogliono sporcarsi le mani, invece è proprio così, come dicevi, anche durante la pandemia tanti servizi Caritas sono potuti rimanere aperti perché i giovani hanno dato una mano e hanno deciso di sporcarsi le mani. Io penso che il compito è della comunità di dare l'esempio, e anche l'esempio passa per contagio, quindi anch'io da giovane, io sto vivendo con loro, li sto accompagnando, sto accompagnando questi giovani che fanno questa esperienza e cerco di dare la mia testimonianza, quindi per contagio di testimoniare loro che è bello dare, è bello vivere per gli altri. E penso che è anche un compito questo che deve darsi la comunità, dobbiamo anche gli adulti. E poi attraverso, se i giovani fanno una bella esperienza, anche in questo senso poi possono contagiare sempre di più i loro coetanei. Senti Benedetta, qual è lo stato d'animo di questi ragazzi ad oggi? Come stanno vivendo questo primo mese di esperienza? Beh, gli stati d'animi sono tanti, perché all'inizio sono venuti con tanto entusiasmo, con tanta voglia di fare, e poi ti puoi immaginare che l'esperienza di vita comunitaria è anche una sfida, quindi anche il prendersi il tempo per se stessi, ma in equilibrio con il dedicare il tempo anche alle persone. Quindi adesso sono in una fase di entusiasmo, ma anche di rendersi conto che bisogna dedicare il tempo, e quindi prenderselo anche, quindi una sorta di equilibrare entrambe le cose. Allora abbiamo anche il sito internet, chiedo alla regia di farlo vedere in maniera tale che possiamo anche far rendere conto i nostri amici telespettatori, perché ci sono anche delle foto dei ragazzi, quindi interessanti, che testimoniano anche questo entusiasmo dei primi giorni. Un altro aspetto importante, Benedetta, di questo progetto Mi Sta a Cuore di Caritas Italia è la vita in comunità. Ecco, l'abbiamo solamente accennato, ma ti chiederei di spiegarci un po' il senso di questa componente, di questo vivere in comune, che è anche una parte importante poi ad intra, potremmo dire, quando poi va manifestata ad extra come dire la vicinanza alle persone che i giovani sono chiamati a in qualche maniera aiutare. Esattamente, Papa Francesco ci ripete che per stare con i poveri bisogna guardarli negli occhi, toccarli le mani. Noi abbiamo voluto che la vita comunitaria fosse una parte molto importante del progetto, perché aiuta ciascuno di noi, anche i giovani, a uscire un po' dalla zona di comfort, quindi a vivere quello che nel messaggio di Papa Francesco viene definito povertà che libera, quindi vivere la relazione, stare dentro la relazione, quindi uscire anche da se stessi per andare incontro agli altri. E questo è una palestra di vita, la vita comunitaria, per stare nel mondo e vivere con gli altri. Poi anche noi cerchiamo di vivere secondo anche degli stili di vita sobri, quindi andare anche nella cultura dell'antisprego. Certo. E quindi ci siamo dati queste regole, sì. Voglio chiudere, Benedetta, questa nostra breve chiacchierata che spero di poter approfondire magari in futuro, ecco, in maniera un po' più specifica. Perché c'è questo rapporto Caritas che è stato presentato poco tempo fa e parla in maniera lapidaria di questa povertà che in Italia è molto dilagante, molto presente. Una su tutte, un aspetto su tutte, è quello proprio della povertà educativa. Ecco, il progetto mi sta a cuore da questo punto di vista come intende fronteggiare questo dramma sociale? Sì, povertà educativa che non è solo povertà materiale. Adesso il rapporto Caritas ha anche definito che c'è una povertà intergenerazionale, purtroppo, quindi che si trasmette anche di padre in figlio. La povertà educativa, abbiamo visto tanti giovani, io sto anche raccogliendo tante esperienze di giovani che dopo la pandemia fanno fatica a riprendersi perché vivono vissuti di ansia, hanno perso il lavoro, non riescono a trovare il lavoro. Quindi questo progetto va nella direzione di accompagnare i giovani a sognare, a vivere per qualcosa di grande. Penso che la dimensione del sogno è la dimensione che riporta anche i giovani a vivere una vita degna di essere vissuta. Quindi penso che questo progetto vuole rimettere al centro la possibilità ai giovani di crescere e di sognare, quindi anche accompagnarli in questo. Allora, Benedetta, noi abbiamo visto il sito internet della Caritas, ricordiamo che domani la giornata mondiale dei poveri è un po' anche un motivo di comunione tra le 220, spero di ricordare bene il numero, ecco, Caritas italiane che in qualche maniera stanno sia quotidianamente che nella straordinarietà della giornata di domani cercano di essere un presidio attivo di socialità nei confronti delle persone che purtroppo hanno perso il lavoro che comunque vivono una situazione di disagio. Caritas, da questo punto di vista è davvero un fortino armato, ecco, passami questa metafora anche se magari è poco calzante con il periodo che stiamo vivendo, ma voi siete in prima linea e voi in qualche maniera combattete anche queste povertà. Io ti ringrazio per essere stata con noi e ovviamente ti invito a partecipare ad una prossima puntata anche per in qualche maniera approfondire ancora di più i tanti progetti che Caritas Italia porta avanti. Grazie di cuore per essere stata con noi. Grazie a voi, grazie a voi, buona giornata. Grazie, grazie a Benedetta Ferrone referente di questo importante progetto di Caritas Italia. Vi invito a rimanere sintonizzati su Padre Pio TV perché da Roma ci spostiamo a pochi chilometri da noi a Foggia per parlare di un'altra esperienza di contrasto alla povertà molto molto importante. Nel frattempo però andiamo in pubblicità.